Ben ritrovati a una nuova puntata di Confronti, trasmissione di RTTR realizzata in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti di oggi. Iniziamo dalla consigliera provinciale e capogruppo della Lega Trentino, Mara Dalzocchio. Buonasera. E abbiamo anche il consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino, Alessandro Olivi. Grazie per essere con noi. Allora, iniziamo questa trasmissione parlando della tragedia, della grande tragedia della marmolata. Non possiamo non parlarne. Si sta discutendo in questi giorni non soltanto su come sia accaduto questo disastro, ma anche sulle responsabilità e sul modo di vivere la montagna. C'è appunto chi suggerisce di chiudere addirittura i punti pericolosi, chi di segnalarli con delle bandierine rosse. Un'ipotesi questa che trova il consenso anche del Presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugati. Iniziamo dalla consigliera Dalzocchio. Allora, come sta seguendo il dibattito legato a questa tragedia? Diciamo innanzitutto che questa tragedia ha lasciato tutti noi con l'amaro in bocca. Purtroppo era imprevedibile, nonostante lo scioglimento dei ghiacciai sia iniziato ancora dagli inizi del 1900. Quindi, insomma, sono parecchi anni che si stanno sciogliendo i ghiacciai. Sicuramente una tragedia del genere in questo momento non era prevedibile nonostante le temperature alte. Questo perché tutte le persone che capiscono di montagna, che vivono la montagna e che vanno in montagna non avevano sentore di una tragedia del genere. Io credo che in questo momento in cui non abbiamo ancora contenza di tutto il numero delle vittime, non le abbiamo ancora riconosciute tutte, sia un momento molto delicato che varrebbe forse la pena non soffermarci sulle polemiche, ma aspettare quelle che saranno poi le valutazioni che faranno gli esperti. Io non sono un'esperta, molti di noi non lo sono. Valutiamo così per quello che noi possiamo vedere e ascoltare nei vari Tg e nei vari collegamenti, ma sicuramente è un momento delicato. Le responsabilità, se ci saranno delle responsabilità, ma sembra proprio che non sia un evento prevedibile, farà il suo corso la magistratura, anche se ha già detto che non vede responsabilità personali. E quindi, insomma, è una tragica fatalità e speriamo di non doverci più trovare in situazioni del genere. È evidente comunque che si dovranno trovare delle soluzioni per evitare che tragedie del genere si possano compiere ancora per mettere in sicurezza i cittadini che vogliono vivere in libertà comunque la montagna. Consigliere Olivi, non bisogna cercare responsabilità. Si deve cercare di fare qualcosa per evitare tragedie come queste. È un tema che si lega al macro tema dei cambiamenti climatici. Però in questi giorni si è parlato appunto di bisogna vivere la montagna in un altro modo. E qualcuno ha detto anche che, insomma, la provincia potrebbe prendere dei provvedimenti per, ad esempio, delimitare le zone più pericolose. Insomma, è possibile farlo? Altri dicono no. L'alpinista deve poter decidere da solo il suo grado di rischio. Io sono tendenzialmente d'accordo con quest'ultima tesi. Le bandiere rosse, insomma, le vedo un espediente così, un po' casuale e spinto dai fatti. Dobbiamo fare informazione, questo sì. Dobbiamo avere una capacità di monitorare i rischi. Ma io credo che sia giusto investire sulla cultura degli alpinisti, sulla loro capacità di misurarsi con un scenario però che è nuovo. Perché quello che deve essere chiaro è che la tragedia da Marmolada non è una tragedia del Trentino. Certo, ha colpito questo territorio, ha colpito persone, non solo Trentino e peraltro. È una tragedia del mondo. Lo ha detto ieri anche la Presidente del Senato Casellati. È una tragedia che riguarda tutta l'Italia per le condizioni in cui è l'Italia. Non lo sapevo che l'ha detto la Casellati, però è così. Poteva accadere da qualsiasi altra parte. La responsabilità, se c'è una responsabilità, è di tutti noi. Perché se non ci mettiamo nell'ordine di idee che i cambiamenti climatici sono un fenomeno ormai che, come diceva la collega, parte da lontano, dobbiamo assolutamente prendere atto che bisogna cambiare un modello di sviluppo, farlo con serietà, però anche con molta radicalità. Piuttosto che intervenire, a volte è giusto, sulle situazioni di emergenza quando le tragedie accadono, proviamo a cambiare il paradigma, il modo in cui ci poniamo di fronte, ripeto, a una vicenda che è una vicenda di tutti. Tutto il mondo deve guardare alla marmolada in questi giorni e riflettere, se non sia il caso, per esempio, cosa che abbiamo visto non è accaduta con Trump in America, eccetera, eccetera, davvero fare tutti qualcosa, per esempio, per evitare l'escaldamento del pianeta. E qui ci sono politiche industriali, politiche, diciamo così, globali che devono cambiare. Puntare sulle energie pulite, come sta facendo anche il Trentino. Cambiamo argomento e passiamo all'assestamento di bilancio preventivo. Il 25 luglio il presidente della provincia Fugatti lo illustrerà in consiglio provinciale. Dal Zocchio è un assestamento da 577 milioni di euro, è iniziato l'Iter nelle commissioni. Ecco, questi soldi come verranno utilizzati? Ma allora sono, come ha detto lei, 577 milioni di euro che verranno indirizzati a favore delle famiglie e delle imprese che stanno soffrendo in questo periodo della crisi generata dall'aumento energetico e di conseguenza anche dell'aumento dei prezzi. Ecco quindi che molte di queste risorse andranno proprio in questo senso e andranno a ristorare anche il comparto scuola e comparto della sanità che ovviamente risentono di questa grave crisi. Per le famiglie sono stati previsti dei bonus da 200 a 400 euro per famiglia che rientrasse nei parametri e avesse fatto richiesta, ma in questo momento si stanno prontando altre soluzioni proprio per venire incontro alle famiglie con i figli. Detto questo, è chiaro che per lasciare più soldi in tasca ai cittadini trentini, la giunta provinciale ha pensato bene di portare l'esenzione dell'addizionale IRPEF al limite dei 25 mila euro, fino a questo momento era 15 mila euro, questo ha un costo di 30 milioni di euro, però è importante in questo momento sostenere proprio le famiglie. Poi, per quanto riguarda l'energia, è ovvio che questa giunta ha già gettato le basi per venire incontro alle esigenze familiari, ma non solo per rendere più autonomo dal punto di vista energetico il Trentino. E quindi sono previsti degli incentivi per tutte le famiglie che vorranno dotarsi di impianti per l'energia rinnovabile, non solo per le famiglie, ma anche per l'impresa breve, partirà anche un bando e soprattutto è stato fatto un accordo anche con i quattro BIM per aiutare le famiglie con un bonus a fondo perduto, diciamo, che parte dai 2 mila euro, in modo tale di incentivare appunto l'installazione di questi impianti che possono rendere più indipendente sia il cittadino che il Trentino. Ovvio che poi i soldi a disposizione sono limitati e quindi bisogna indirizzarli proprio in questo momento dove c'è più necessità. Ed è chiaro che le famiglie e le imprese sono quelle che hanno più necessità. Già hanno dovuto soffrire, diciamo, la crisi generata dalla pandemia. Un periodo, diciamo, più positivo l'abbiamo avuto nella seconda metà del 2021 quando, grazie ai bonus per l'edilizia, c'è stato un aumento anche del PIL in Trentino non previsto del 6,9%, però ecco che con la guerra in Ucraina purtroppo siamo ripionviati un'altra volta in una crisi della quale purtroppo non sappiamo il finale, non sappiamo quando si metterà fine a questa guerra, se la guerra in Ucraina si protrerà ancora non solo nel 2022, magari anche nel 2023 e quindi le conseguenze saranno drammatiche. per questo la giunta provinciale ha accantonato 100 milioni di euro proprio per questa evenienza per far fronte alle esigenze che si dovessero presentare in ottunno. Allora, Oliv, un accantonamento da 100 milioni che il PD ha criticato proprio ieri in sede di prima commissione Fugatti ha detto che nessuno però può dire che le risorse trentine non siano adeguate come quelle dell'Alto Adige parlando di assestamento. A lei, insomma, una corposa replica. Anna D'Alzocchio. Ma la manovra di assestamento ha la funzione di assestare il bilancio in corso d'anno sostanzialmente, quindi di virare le politiche, orientare le scelte per far fronte a bisogni più contingenti, più attuali. purtroppo noi da 4 anni assistiamo a una serie di assestamenti al bilancio che sono sostanzialmente il risultato della capacità, scusate, della incapacità di questa giunta di spendere i soldi perché gran parte dell'assestamento di bilancio si finanzia con l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione significa soldi avanzati, cioè che non sono stati spesi. Quindi questo è il quarto anno che accade questa cosa. Questo piano, questo fondo di 100 milioni è molto generico, famiglie, imprese, quant'altro. Tra l'altro noi siamo molto critici rispetto al fatto che la giunta si riservi in maniera sostanzialmente discrezionale. Capisco che la collega D'Alzocchio non può che sostenere la giunta, ma questa è comunque una lesione alle prerogative del Consiglio provinciale perché il Consiglio dovrebbe essere l'organo che almeno in sede di bilancio evidentemente decide quali sono le priorità e quindi dà mandato alla giunta che ha ovviamente il diritto e la responsabilità di governare di fare le scelte poi, diciamo, esecutive. Ecco, è un fondo molto generico. Faccio solo una riflessione sul bilancio. La giunta aveva stanziato 25, aveva detto che avrebbe stanziato ad aprile 25 milioni per il bonus energia. Io ho fatto un'interrogazione tre settimane fa per dire quanti di questi 25 milioni sono stati spesi e a quante famiglie rispetto ai 70 mila nuclei familiari che si diceva che sarebbero stati raggiunti nei due o tre mesi a seguire. Bene, sono stati spesi 7 milioni e sono state raggiunte 17 mila famiglie al posto delle 70 mila. Ecco, questo significa che i bilanci sulla carta sono sempre molto belli da raccontare. Devono però diventare lo strumento con il quale mettere a terra rapidamente e efficacemente le misure perché non abbiamo tempo di aspettare. Se permettere io vorrei solo aggiungere una piccolissima replica per quanto riguarda i 100 milioni a disposizione che comunque dovranno essere approvati dal Consiglio provinciale e quindi quest'autunno se ci sarà bisogno verranno presentate eventualmente le scelte della Giunta e lì andremo a discuterle. Ma detto questo vorrei anche ricordare che comunque sono stati rinnovati anche i contratti del pubblico adesso si pagheranno anche gli arretrati quindi in quei 577 milioni sono comprese anche questi ristori e queste spese che non sono spese ma sono soldi che verranno in tasca ai cittadini che potranno quindi far girare l'economia. Allora veniamo adesso invece a una misura che è stata già approvata in Consiglio provinciale che è la riforma delle comunità di Valle approvata quasi all'unanimità vediamo insieme una breve scheda introduttiva. Una riforma quella delle comunità di Valle approvata quasi all'unanimità in Consiglio provinciale 30 i voti a favore e una sola astensione quella del consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle Alex Marini un percorso accidentato inizialmente per questo provvedimento atteso da inizio legislatura soddisfatto l'assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi con questa riforma afferma si torna a dare centralità ai comuni ma le comunità di Valle di fatto non spariscono diventando uno strumento operativo con l'intento di pianificare visioni strategiche e offrire servizi ai cittadini il tutto in collaborazione e non in contrapposizione ai comuni una riforma che si compone di 18 articoli dalle minoranze è stata apprezzata l'apertura dell'assessore Gottardi che ha accolto numerosi emendamenti e modifiche chieste anche dal Consiglio delle Autonomie proprio da una richiesta di quest'ultimo è scaturito un emendamento presentato dallo stesso assessore in base al quale i presidenti delle comunità di Valle potranno non essere sindaci e neanche dovranno essere necessariamente consiglieri comunali dei comuni del territorio della comunità ma nel caso la scelta dovesse ricadere in queste categorie dovrà esserci l'accordo di almeno 4 quinti arrotondati all'unità superiore dei componenti del Consiglio dei Sindaci allora torniamo in studio consigliera Dal Zocchio inizialmente queste comunità di Valle dovevano essere eliminate poi cosa è successo? allora guardi delle comunità di Valle è rimasto solo il nome perché comunque costava troppo anche cambiarlo 4 milioni di euro giustamente potranno essere spese in altro e non per cambiare il nome delle comunità di Valle dobbiamo anche dire per come sono state pensate istituite nel 2006 le comunità di Valle non esistono più non esistono più per via di alcune sentenze che appunto hanno paventato l'incostituzionalità delle comunità di Valle quindi erano già state modificate dalle precedenti giunte e in questo caso l'assessore Gottardi ha fatto un ottimo lavoro di ascolto proprio per poter modificare le comunità di Valle ridare dignità e autonomia ai comuni i quali si avverranno adesso delle comunità di Valle perché sono rimasti solo in nome per dare i servizi ai cittadini e invece prima le comunità di Valle erano pensate per togliere autonomia ai comuni e anche per sostituirli ai comuni mentre adesso è il contrario esattamente come erano prima quindi sono soddisfatti tutti i sindaci perché ovviamente riprendono il loro lavoro e la loro responsabilità e credo che questo sia assolutamente utile per il territorio e noi l'avevamo sempre detto che le comunità di Valle non avrebbero aiutato il nostro territorio le criticità ci sono state anche l'obbligatorietà l'associazione obbligatoria non ha dato i frutti sperati anzi ha creato tensioni tra i comuni ora si va nella direzione giusta ma credo che questo importante disegno di legge dell'assessore Gottardi abbia un po' messo tutti in sintonia in modo tale che sia utile per i cittadini e il territorio allora tutti in sintonia con questa riforma sì vede siamo in sintonia semplicemente per la ragione opposta a quella che ha appena espresso la collega da Zocchio nel senso che non ha cambiato nulla le comunità di Valle come sono entrate in questa legislatura sono uscite salvo qualche ritocco ai meccanismi elettivi quattro quinti o la maggioranza qualificata per gli organi la nomina di un direttore facente funzioni di segretario generale la lega aveva manifestato in campagna elettorale la volontà se avesse vinto le elezioni di abolire le comunità di Valle ripeto l'abbiamo votata tutta questa riforma perché sostanzialmente è un aggiustamento ecco è una utile manutenzione dell'organo i sindaci hanno completamente stravolto la realtà è questa un'iniziale diciamo più radicale riforma Gotardi ha dimostrato di essere una persona sennata e quindi ha sostanzialmente preso il parere del consiglio dell'autonomia e l'ha fatto proprio ed è per questo che anche le opposizioni di fronte alla conferma dell'importanza di avere su questo sono d'accordo con la collega un ente di area vasta dove i comuni siano protagonisti certamente abbiamo tutti condiviso insomma che si tratta di un passaggio migliorativo ecco ben lontano evidentemente dagli intenti soppressivi che avevano accompagnato la propaganda elettorale Signora D'Alessocchi passiamo a un altro argomento che è il nodo relativo alla sanità parliamo inizialmente della notte perché i tempi lo sappiamo tutti dovrebbero allungarsi dovrebbe arrivare questa prima di ferragosto forse la famosa delibera per l'annullamento della gara lo vedremo si è scelto nella manovra di estestamento di cui abbiamo parlato in precedenza di dare il via libera ai lavori di ristrutturazione per l'ospedale Santa Chiara insomma è inevitabile questo iter è assolutamente inevitabile ormai del not si parla da una vita non ne usciamo più da questo problema nel frattempo i problemi sanitari si sono moltiplicati e noi non riusciamo a dare le risposte ai cittadini che meritano le risposte però ovviamente questa non è nemmeno come dire la politica che ha sbagliato ma c'è tutta una serie di componenti giuridiche che hanno portato a dilungare i tempi a presentare ricorsi e quindi anche a giudizi da parte delle magistratura che sono stati contrastanti e ci portano a dover ancora purtroppo aspettare per avere il via definitivo e poter finalmente costruire questo nuovo ospedale per il Trentino nel frattempo è chiaro che Santa Chiara ha bisogno di essere ristrutturato le esigenze sono cambiate e quindi bisogna far fronte alle nuove esigenze alle difficoltà alle criticità sperando che insomma a breve si possa dire finalmente partiamo con la realizzazione del nuovo ospedale consigliere Olivi bisogna ristrutturare questo Santa Chiara che era un ospedale destinato alla dismissione per questa storia ultradecennale del NOT insomma ci sono state varie discussioni varie accuse incrociate però resta un bel nodo che deve risolvere il Trentino sì io sul NOT ho sempre detto che la politica dallo scaricabarile non mi convince lo dico avendo avuto responsabilità di governo in passato è una vicenda davvero diciamo così figlia ormai di un sistema che non funziona più cioè di una burocrazia e di una giustizia amministrativa che si ormai avvinghia su se stessa e quindi siccome i malati non aspettano e i medici hanno bisogno di poter operare all'interno di strutture sicure e abbiamo bisogno anche di dotare gli ospedali di tecnologie di spazi e credo che sia una scelta assolutamente corretta sensata quella intanto di mettere in sicurezza il nostro ospedale l'ospedale del Trentino oggi è di Trento del Trentino è il Santa Chiara questo non significa che non dobbiamo però trovare una soluzione per il not e personalmente io credo questa è la mia idea tabula rasa e ricominciare per quanto riguarda invece la gestione della sanità in Trentino in questi ultimi difficili anni come la giudica chiedo una risposta breve perché sta per finire il nostro tempo a disposizione la gestione della pandemia a mio avviso è stata una gestione diciamo in cui il Trentino tutti hanno dimostrato senso di responsabilità rispetto invece alla gestione diciamo della sanità in generale credo che si sia pensato troppo a fare tutto da per tutto ad accontentare le legittime richieste dei territori di qualche piccola diciamo così nicchia e si sia investito poco nella ricerca e soprattutto nella qualità noi dobbiamo alzare il livello di eccellenza del Trentino visto che abbiamo un sistema efficiente dal punto di vista organizzativo Dal Zocchio una breve replica prima di chiudere ma diciamo che noi puntiamo molto sulla sanità territoriale al posto di una sanità trentocentrica come era stata ipotizzata che ha creato però un pachiderma burocratico dal quale non riusciamo più a venirne fuori dobbiamo anche dire che purtroppo c'è una mancanza di medici di infermieri che non è solo Trentino ma che è nazionale e che questo ovviamente incide anche sulla sanità trentina adesso le politiche che verranno messe in campo saranno rivolte proprio alla ricerca di questo tipo di personale per far funzionare al meglio la sanità perfetto grazie con la sanità chiudiamo questa puntata di confronti quindi salutiamo i nostri ospiti Mara Dalzocchio consigliera provinciale della Lega Trentino Alessandro Livi consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino grazie per averci seguiti vi diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova puntata di confronti arrivederci